Nembo è logico, io ho fatto, ho fatto, ho fatto, ho fatto come ci sono inciampata, io non ti dico. E tu o mi? Ecco, mi ha mandato un massaccio. Io mangio col profo, poi vado a prendermi un po' la mereta, il ster del auto. rispondo, no no, è tutta tua